Venerdì 16 giugno, bentrovati all'appuntamento con l'edicola di TRMH24, lo spazio dedicato alla lettura dei quotidiani, iniziamo dalle prime pagine dei giornali nazionali, Repubblica Corriere della Sera e Gazzetta del Mezzogiorno. Corriere della Sera, giustizia si cambia, alta tensione nordio, magistrati via, l'abuso d'ufficio stretta sulle intercettazioni, fotonotizie, il naufragio in Grecia per quanto riguarda i migranti, possibili 600 morti e vediamo appunto lo strage di bimbi sul barcone, il caso dei soccorsi mancati, Casa Berlusconi, Gianni Letta, il ritorno dell'ospite, i cinque youtuber e il piccolo ucciso, il guidatore positivo alla droga, Roma l'accusa omicidio stradale, borderline, le sfide folli. Cosa stiamo diventando? L'inganno dei like, l'analisi di Walter Veltroni. Passiamo ora alla prima pagina di Repubblica, vediamo insieme al titolo principale, sulla riforma della giustizia, la giustizia di Silvio, il titolo scelto dal quotidiano, varate le nuove regole, all'indomani delle esequie, il governo cancella l'abuso d'ufficio, rende più difficili gli arresti e mette il bavaglio alle intercettazioni, nordio e il garantismo auspicato dal Cavaliere, i magistrati non possono criticare le leggi, Calenda e Renzi pronti a sostenerlo. Senato ipotesi Paolo Berlusconi, patto Marina Meloni su Mediaset e Forza Italia. La destra di Giorgia rischia di imboccare la strada sbagliata e con la manipolazione i vizi nazionali sono stati trasformati in virtù. Quindi in fotonotizia la folle corsa a 110 all'ora per quanto riguarda la cronaca che ha ucciso Manuel, gli sfottò nell'ultimo video degli youtuber prima dell'incidente e la didascalia della foto, appunto un frame del video postato su youtube dal gruppo Borderline poco prima dell'incidente. Vediamo anche gli articoli di spalla, quei cento bimbi nella stiva e le bugie della marina greca sul disastro della nave barcone dei migranti. A Kiev nella clinica della surrogata neppure le bombe ci hanno fermato e quindi in taglio basso leggiamo esame di maturità, le tracce di un secolo nel tema d'italiano e cultura da riace. Ai Balcani viaggio senza tempo di Milman Blues. Passiamo ora alla gazzetta del mezzogiorno, vediamo la strage dei bambini per quanto riguarda il naufragio di questo barcone di migranti in Grecia, fino a 600 vittime nel naufragio dei migranti davanti alle coste greche diretti in Italia nella stiva. 100 minori di spalla, scontro fra treni, fu solo colpa dei due ferrovieri, l'incidente appunto sulla Andrea Corato il 12 luglio 2016 e c'è stata la sentenza, appena due condanne, 14 assolti, questa strage sulla linea Andrea Corato causò 23 morti e 51 feriti, fu dovuto a un fatale errore dei ferroviari, almeno questo dice la sentenza pronunciata ieri sera dal tribunale di Trani, affari e famiglia nell'attestamento di Berlusconi, giustizia via libera al DDL Nordio, la folle corsa degli youtuber col maxi suv, morto bimbo, quindi in taglio basso, l'estate che non c'è, ancora allagamenti in Puglia e Basilicata, allarme e maltempo, a Brindisi è stata sfiorata la tragedia. Passiamo ora alle pagine locali di Gazzetta di Bari, Gazzetta della Bat, quindi quella della Capitanata, Salento e Taranto e Gazzetta di Basilicata. Iniziamo con la Gazzetta di Bari, fare la spesa costa il 30% in più, in due anni rincari ovunque, soprattutto per olio, pane, pasta e legumi, i dati per quanto riguarda l'inflazione che rallenta per il calo delle materie prime energetiche, ma i prezzi degli alimentari non lavorati aumentano su base mensile più 0,5% e su quella annuale più 8,6% e soprattutto biennale. Minacciato e rapinato in Piazza Amore, successo a un 19enne, questo per quanto riguarda la cronaca di Bari e poi l'ultimo saluto della città a Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio e Fiera del Levante. Passiamo alle notizie principali che vengono dalla Basilicata, riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Maratea, piove sul bagnato, sfregiata da altre frane, la marina invasa da detriti, evacuati 30 turisti da un albergo e ancora, questo sempre per quanto riguarda il maltempo che continua in perversare in Puglia e Basilicata, meeting nazionale di nuoto, sport e turismo a Braccetto, Scanzano, Torre del Faro, 826 atleti iscritti, questo invece per quanto riguarda lo sport e poi vediamo ancora altre notizie, report dell'osservatorio ambi, meteo impazzito, stilicidio da roulette, questa è una auto sommersa dall'acqua a Cavonica, impantanata nel fango, quindi in taglio basso area industriale di Melfi, allagata, ancora disagi e turisti a spasso con le mandre da Tolvi a Tito, questa è la curiosità sulla transumanza, mentre in taglio basso a Potenza il concorso Dante Alighieri tutti premiati, i riconoscimenti sono andati agli alunni delle scuole, a Potenza ancora oggi curarte nel Centro Storico Musica e Poesia per curare l'anima e a Sinise i cittadini over 65 cybernauti formati dai carabinieri in rete di sicurezza. Passiamo ora alle altre province per quanto riguarda la Puglia, quindi iniziamo dalla BAT, Criminalità ad Andrea, tra paura e voglia di reagire, parla Claudio Sinisi, presidente della sezione cittadina della Confcommercio, pressione intollerabile, occorre denunciare. Scusate, Barletta urbanistica, domande senza risposta, e Trani, lunghe code, traffico in tilt per l'allagamento del sottovia, chiuso il tunnel di via Pozzopiano per l'abbondante pioggia. Ci spostiamo ora in Capitanata, comune manovra da 180 milioni, più risorse per le opere pubbliche, affoggia maggiori investimenti anche per istruzione sociale e ambiente. Passiamo al Salento, bomba d'acqua Brindisi, allagamenti, strade chiuse, neonata, salvata, con la mamma dei pompieri e lecce, anziani nel mirino di un truffatore, questo per quanto riguarda la cronaca, ieri tre colpi, bottino da 20 mila euro. Ancora ci spostiamo a Taranto, Picchia abbandona i quattro figli, madre 47enne, finisce in tribunale, nei guai. È finito anche il compagno accusato di sequestro di persona, in carcere invece una rivolta in cella, sono cinque detenuti sotto accusa. Corriere del Mezzogiorno, Repubblica Bari, vediamo i due giornali che aprono entrambi con la sentenza di primo grado del Tribunale di Trani sulla strage ferroviaria sulla linea Andrea Corato. Quasi tutti assolti per la strage, scontro sul binario unico, condannati capo stazione e capo treno, scagionati in 14, il verdetto del Tribunale di Trani per la tragedia che provocò 23 morti tra Andrea e Corato. All'interno del giornale vediamo problemi della sanità, in servizio resta solo il primario, a chirurgia saltano gli interventi, nuovo caso al Perrino di Brindisi, polemica sui pediatri pagati 1.600 euro per un turno di notte, mentre vediamo le immagini, il momento della lettura della sentenza in foto con la Presidente che legge questa sentenza in cui, ricordiamo, ci sono state due condanne e 14 assoluzioni, 6 anni al capo stazione di Andrea, 7 al capo treno, scagionati i vertici di ferro trambiaria. Passiamo a Repubblica Bari, anche Repubblica Bari apre con questa sentenza, assolti in 14 su 16, uccisi due volte, condannati il capo stazione di Andrea e l'unico capo treno sopravvissuto nel disastro del 2016, 23 le vittime, 51 feriti. La rabbia dei parenti dopo la sentenza non è giustizia. All'interno del giornale, continuiamo a leggere invece, per quanto riguarda la politica, terzo mandato, Movimento 5 Stelle ribadisce il no, ma pronti a discutere sull'alleanza, i 5 Stelle rispediscono al mittente anche l'apertura del Sindaco De Caro a un ingresso in giunta per l'ultimo anno, il Vice Presidente nazionale turco e le comunali del 24, 2024, confronto con chi condivide i nostri valori e principi. Edicola del Sud, due condanne per 23 morti, questa l'apertura, anche in questo caso capo stazione e capo treno colpevoli per l'incidente, assolti i vertici di ferro trambiaria e poi invece per quanto riguarda il disegno di legge, via l'abuso d'ufficio, lite governo, associazione nazionale magistrati da Palazzo Chigi, arriva l'ok alla bozza di riforma, giro di vite sulle intercettazioni. Passiamo ora al sole 24 ore, vediamo Unione Europea, il fronte del rigore attacca sul patto, Gentiloni punta sulla mediazione, le riforme dell'Unione Europea, Berlino e altri 10 paesi, focus sul debito, criteri uguali per tutti, ma l'Olanda si smarca. Il commissario agli affari economici invita a costruire ponti e non scavare trincee. Invece per quanto riguarda il fondo Salva Stati, la riunione del MES Pressing sull'Italia, ma prima apertura alle richieste del governo e tra Telecom e Mediaset, Team MFL, carte francesi, doppia sfida italiana. L'altra analisi di quest'oggi del sole 24 ore. Con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi, grazie per averci seguito, continuate a restare sul nostro canale per tutti gli aggiornamenti su Puglia e Basilicata.